...strike from Mayangolo, giving Karius absolutely to take, straight down the middle with whatever seconds are left, Roma are one goal away from forcing extra time, do they even have time enough though to get the ball back and create an attack? ... ... Ci sono stati errori arbitrali, partendo dal presupposto che è anche colpa nostra perché non siamo stati all'altezza, all'andata, però penso che il VAR poteva aiutare tanto in questa Champions League. Ci dispiace tanto, solo per un gol non ce l'abbiamo fatta, è stata dura, ci abbiamo creduto fino alla fine, però purtroppo è andata così, bastava un gol solo, bastava un gol solo o non prenderne uno soprattutto. ... Comunque stasera c'erano due ricorri per Roma, uno con l'espulsione del giocatore dell'Irpo, ci poteva andare meglio, siamo stati sfortunati, potevamo pure passare però stasera, se giocavamo meglio l'andata saremmo passati. Collina si deve vergognare, ha rovinato una partita, una squadra che ha dato l'anima per andare in finale, la Roma ha lottato, ha dato l'anima, non ne potremmo di niente a questi ragazzi, ha sbagliato la partita d'andata ma hanno dato l'anima, hanno dato l'anima, sono orgoglioso di essere umanista, la faccia dei laziali. Sì, ho fatto l'anima, sono davanti al non benissimo. Meritavamo di passare noi, un rigore non ce l'hanno dato, ce l'hanno dato uno solo e purtroppo è andata così, però meritava la Roma. Salah non ha fatto una bella partita, è un ingrato. È fortissimo, è fortissimo, bravo Salah, speriamo che si spezza le gambe.